2 delle ultime 3 partite oltre ad un pareggio e quindi sono in striscia positiva per quanto riguarda invece gli ospiti del Ness attenzione intanto a questo incredibile gol da calcio d'angolo 1-0 dopo nemmeno un minuto di gioco, vantaggio del Ness abbiamo giocato 3 minuti e sono arrivate tantissime interruzioni intanto un altro tiro e un altro gol improvviso ancora il Ness 2-0 dopo 4 minuti di gioco e adesso per gli Hammers la partita si fa davvero dura gira ancora verso Valentini sempre per testa, testa spazio per calciare va ancora da San Marco che segna un altro gol 3-2 che azione, vantaggio del Ness calcio a 8, ennesimo vantaggio di questa partita per gli ospiti sulla linea del calcio d'angolo vorranno gestire questa sfera che però perdono Trevisani dopo aver guadagnato la palla la mette dentro e arriva ancora il tocco sotto l'ennesimo di San Marco quarto gol per lui in questa partita 4-3 torna avanti il Ness